Ciao a tutti e benvenuti al sesto appuntamento con la SEOtimana, dove parlo dei contenuti SEO più interessanti degli ultimi sette giorni. Questa SEOtimana parla di... Lancerbox può portare traffico al tuo sito? I cosiddetti link on topic sono importanti? Quali sono i pericoli del tag no index? Bene, cominciamo! Questa settimana la SEOtimana è stata segnata dallo svolgersi a San José del SMX West, una fiera internazionale del search marketing, alla quale hanno partecipato molti big della scena internazionale. Stone Temple Consulting, dopo l'interessante articolo di Eric Kang della settimana scorsa sul Knowledge Box, ha parlato a lungo sulla questione. Ho trovato molto interessante il post di Mark Trapigen intitolato l'Answer Box può portare traffico al tuo sito. L'articolo analizza le diverse tipologie di Answer Box cercando di individuare quali avranno con ogni probabilità cali di traffico a causa dell'implementazione sulla SERP del Knowledge Box stesso. Mark individua tre tipologie principali. La prima tipologia è quella dove Google serve nel Knowledge Box un'informazione ben precisa e molto circoscritta che esaurisce direttamente nella SERP l'intenzione di ricerca dell'utente. Ad esempio, se chiediamo a Google qual è la temperatura locale e otteniamo una schermata come quella che voglio mostrarvi qui, molto probabilmente non cliccheremo sul link che cita il sito dal quale Google ha estrappolato queste informazioni. Secondo Stone Temple Consulting, questo genere di siti che ha vissuto, basando il proprio business, alla diffusione di informazioni di questo genere, dovrebbe guardarsi intorno. O si chiude i battenti oppure si cambia modello, cercando di creare quel valore in più che farà sì che gli utenti vogliano lo stesso visitare il sito. Ma per fare ciò, oltre che creare questo valore, bisogna anche coltivare nel pubblico la consapevolezza di essere in grado di servire questo valore. Per esempio, proprio parlando di siti di meteo, mi può venire in mente l'implementazione di webcam nelle città, di foto aggiornate, qualcosa che Google difficilmente potrà servire direttamente in SERP anche in futuro. Insomma, chi è accampato su questo tipo di SERP, immagino che già da tempo si stia facendo delle domande, ma è davvero arrivata l'ora di trovare delle risposte. La seconda tipologia di answer box che lui individua è quella dove vengono fornite informazioni riassuntive che però Google segnala come non complete, attraverso, ad esempio, link sotto forma di puntini di sospensione o il famigerato continua a leggere. Mark ci porta questo esempio di guida passo passo. Se ci si rende conto che il proprio sito viene servito agli utenti attraverso una SERP del genere, ci sono modi per trarre grandi vantaggi da questa cosa. Prima su tutti bisogna notare, e molti non l'hanno fatto, che nel answer box non ci finiscono solo i siti in prima posizione organica. Anzi, addirittura nello studio di Stone Temple Consulting della settimana scorsa è stato rilevato che possono essere siti anche provenienti dalla seconda pagina di Google. Non solo dalla prima o seconda posizione, ma addirittura la seconda pagina. Per questo, in questo caso, diventa una grande opportunità. Ad esempio, strutturando il primo paragrafo con una lista passo passo, che Google non è in grado di stampare interamente, e che quindi servirà con un continuo a leggere. Oppure facendo sì che il testo lasci presagire che c'è qualcosa di più, e che invogli quindi i click dalla SERP. Certamente trovarsi in una situazione del genere è molto interessante. La terza tipologia di answer box che lui individua è quella più interessante, ovvero quando sembra essere una SERP che ammazzere il traffico, ma che in realtà lo aumenta. Nella SERP, ad esempio, che ci porta Mark per la Request for Proposal, dove Google serve una definizione sintetica proveniente da un blog di settore, è stato notato un aumento di traffico dal proprietario del blog stesso, che l'ha segnalato all'autore dell'articolo, il quale si è chiesto, ma perché aumenta il traffico? Ha individuato due ragioni che secondo lui giustificano questo fenomeno. Il primo è che nel box viene servita una definizione sintetica di un argomento molto complesso, che viene percepito da molto complesso da chiunque si avvicini alla materia. Questo fa sì che l'utente sia invogliato a saperne di più, e quindi a cliccare sul link riportante alla fonte di questa citazione. Il secondo motivo è che, in modo molto furbo, il titolo di questa pagina web preannuncia molto altro oltre la definizione. Il mitico valore in più del quale parlavamo nella prima tipologia di Answer Box. Vorrei far notare che ambedue questi benefici vengono dati non da particolari soluzioni a livello di codice, o di manipolazione di link, di schemi, di quant'altro, ma da un contenuto sviluppato a regola d'arte. Non è un caso. Grazie a questo Answer Box, questo sito, che da anni si posizionava dietro Wikipedia, che presumibilmente gli lasciava solo le briciole su una query impostata sulla ricerca di una definizione, gli è ora davanti, con un font più grande e incasellato in un box ben evidente. Direi che è un ottimo risultato, se lo chiedete a me, è proprio il valore in più, quel qualcosa che va oltre l'enciclopedico, che fa sì che questo sito, in seconda posizione per le ricerche organiche, ora goda di un posto privilegiato nella SERP, e che via via tutti i SEO vorranno conquistare, perché sono sicuro che la click-through rate di queste Answer Box sarà anomala, rispetto ai dati che siamo abituati a considerare nelle SERP, e genererà grande confusione, ma anche grandi opportunità. Che venga visto come un ladro di traffico o meno, a me pare che l'Answer Box decide in un modo un pochino più umano, con un punto di vista più umano rispetto agli algoritmi che determinano le posizioni organiche nelle SERP di Google. Per questo io lo vedo come un invito a concentrarsi sempre di più sugli umani, sulle loro necessità, rispetto agli algoritmi e le loro necessità, di creare sempre più valore e utilità, e perdere sempre meno tempo a manipolare questo o quel fattore. Nella parte finale del video segnalerò anche un contenuto che non sono riuscito ad approfondire, ma legato a questa questione, quindi stay tuned for more, non perdetevelo. Il secondo contenuto che vi voglio proporre è un Whiteboard Friday di Moz di Rand Fishkin, intitolato I link on topic sono importanti? La domanda a chi si pone Rand, e che lui giustamente secondo me rileva come uno dei quesiti SEO che vengono posti più di frequente nelle discussioni, è la seguente. I link on topic, ovvero i link da siti aventi un argomento pertinente e coerente rispetto al nostro, per il quale stiamo cercando di ottenerne, è più importante dei link ottenuti da siti, diciamo, più slegati o meno in topic, ovvero in argomento, rispetto al nostro sito? Questo naturalmente dal punto di vista di Google e dei suoi famigerati calcoli algoritmici. Ad esempio, Google considererà più importante per un sito che tratta di arredamenti, un link dal sito di un interior designer o un link da un sito che tratta di pesca sportiva? Rand giustamente rileva come la community SEO in realtà sia molto divisa sulla questione. Basandosi sulle proprie esperienze, molti SEO vi diranno che assolutamente sì, i link in topic hanno un peso ben diverso da quelli che non lo sono. Altri vi diranno invece che conta solo la metrica grezza del link, ovvero il page rank che passa, l'authority del dominio, e chi se ne frega se parla di pesca o di musica dance, il sito che sta linkando verso il nostro sito di arredamenti. Sicuramente nella Google Post Hummingbird il contesto ha il suo peso, in termini di autorità algoritmica, ha un significato rilevante agli occhi di Google. Però la realtà è che ogni link è una storia a sé. Anchor text, il numero di link contestuali nella pagina, l'autorità del dominio, la posizione nel link del testo, alcuni dicono. Sono tutti fattori concorrenti all'importanza o meno di un link. E' quindi molto difficile rilevare dati certi sulla questione di link on topic o meno. Rende evidenza due quesiti molto più interessanti da porsi nella valutazione di un link rispetto al fatto che sia importante che sia on topic o meno. Il link che andiamo a inserire aumenta il valore della pagina nella quale viene inserito? E' utile ai suoi utenti? Verrà cliccato? Ha senso in quel contesto? E parlo di senso logico, non di senso a lato SEO. Parafrasando un po' il suo discorso, lui secondo me giustamente dice che questa è una domanda che ci distrae da dubbi che sono più utili e che la includono già, diciamo. Appurato che è molto difficile stabilire con test scientifici o pseudotali il valore che ha questo aspetto nella definizione dell'importanza di un link quando ci facciamo la nostra serie di domande per capire se questo link è da acquisire o meno è meglio chiedersi se un link sarà utile, ovvero porterà traffico direttamente e non solo un vantaggio a livello di posizionamento e soprattutto se questo link è ottenibile. Spesso i link provenienti dalla nostra stessa nicchia sono molto più difficili da ottenere da siti che magari sono un pochettino meno pertinenti ma che possono essere comunque sensati ed on topic. Ad esempio, sempre parlando di arredamento un link dal sito di un viaggiatore ad esempio che parla delle differenze dell'arredamento tra due paesi diversi potrebbe essere interessante magari mettendo il nostro blog di arredamento come esempio dell'arredamento italiano oppure un link proveniente dal blog di uno chef che parla dell'arredamento per la cucina ideale per uno chef appunto potrebbe essere un altro link interessante e soprattutto che verrebbe cliccato dagli utenti dello chef stesso questi secondo me sono i link da perseguire e da come l'ho intesa io sono anche quelli che RAND ci invita a inseguire bisogna sempre usare il buonsenso e forse questo non solo nella SEO ma nella vita in generale è un po' il peccatuccio di tanti il link dal sito dell'officina di tuo cugino forse può passare un pochino di PageRank ma non ha senso e se tu hai troppi cugini con troppe officine potrebbe portarti anche a ricevere un bello schiaffone algoritmico da Google bisogna usare il buonsenso poi per carità, diluito in mezzo a tanti se proprio vogliamo fare il minestrone con tutta la verdura che abbiamo possiamo anche mettercelo però bisogna perderci ben poco tempo e bisogna usare il buonsenso io amo le domande e un mio professore mi disse prima di addormentarti alla sera poniti almeno tre domande ecco forse un SEO di domande se ne dovrebbe porre almeno tre all'ora nei commenti di questo Whiteboard Friday ho trovato alcune perle che voglio condividere con voi quando valutiamo quali link inseguire nelle nostre campagne di link building o link earning che dir si voglia una domanda molto interessante da porsi è io vorrei questo link se non esistesse Google se ci pensate è una domanda fantastica ma questo forse applicabile in molti aspetti della nostra vita come SEO o come webmaster se non ci fosse Google farei lo stesso questa cosa la farei per i miei utenti da tatuarsi a fuoco sulla fronte altra domanda questo sito dove voglio inserire un link ha una selezione dei suoi contenuti svolta da un essere umano? c'è una barriera d'entrata qualitativa? insomma un post che grida a pieni polmoni user first prima gli utenti sembra banale ma è il caso di ripeterlo e lo dico perché vedo tanti tanti dubbi sulla quale la gente perde tempo filtrate ogni vostro dubbio attraverso il buonsenso è attraverso la politica dello user first user first prima gli utenti sarà difficile sbagliare so che molti di voi avranno storto il naso mentre parlavo di questo whiteboard friday vorrei sentire anche la vostra opinione quali sono le vostre esperienze? ditelo nei commenti del video o sulle discussioni che si genereranno torno adesso mi raccomando perché è un argomento molto interessante perché è molto legato all'esperienza di ognuno di noi vi aspetto mi raccomando il prossimo contenuto che vi voglio presentare è un post di Eric Heng intitolato when no index goes bad quando il no index diventa un disastro scritto per il blog di search engine land ci parla dei problemi un pochino più subdoli e sfuggenti rispetto a quelli che di solito ci vengono in mente pensando al tag no index parlandoci di quella che è la sua lunga esperienza con questo elemento che permette per chi non lo sapesse o non se lo ricorda di dire a google di non mettere nell'indice una pagina web sulla quale è presente Eric ci parla dei problemi dell'utilizzo del tag stesso per risolvere i problemi di sovraffollamento che colpiscono alcuni siti web che possono arrivare ad avere centinaia di milioni di pagine ecco quando un sito prende dimensioni così abnormi solitamente è successo qualcosa di anomalo ad esempio un utilizzo dei tag sconsiderato che crea pagine su pagine di duplicazioni create in automatico oppure una qualche magagna a livello di codice o di implementazione che genera il famigerato thin content il contenuto sottilino di quello spessore del quale va ghiotto il nostro amico panda e che ci mangia in un sol boccone sono pagine infatti di scarsissimo valore che spesso non sappiamo neanche esistere ecco in molte discussioni vedo che tante persone si limitano come dice Eric ad appiopparli un bel no index e a dimenticarsene tanto google non le indicizza non le prende in considerazione esistono però molti problemi che rendono preferibile una bella falciata eliminazione dell'origine del problema e delle pagine generate il no index come dice lui non è la risposta giusta questo per diversi motivi che lui ci cita il primo è che queste pagine inutili inserite nella struttura pur avendo un no index continuano a disperdere page rank o link juice autorità il succo come la volete chiamare quel valore che i link in entrata danno a una pagina e che poi viene distribuito attraverso la struttura di link interni alle altre pagine del sito ma che come volti di voi sanno ogni volta che viene passato attraverso il link viene diluito pagine con le tag no index follow continuano a far fluire il page rank ma quando passa attraverso la pagina come dicevamo prima appunto questo viene lo stesso diluito ogni pagina buona e utile che link a queste pagine no index magari come lui dice nel suo esempio in menu contestuali che collegano pagine rilevanti l'una con l'altra e per le quali questi collegamenti sono molto importanti ecco queste pagine no index aumentano il numero di link presenti da quella pagina e quindi ne diluiscono l'importanza trasmessa ai link verso le pagine buone a loro volta la diluiscono nel loro passaggio insomma bruciano tanto importante page rank per il quale ci danniamo noi poveri SEO pensate all'entità del danno in una struttura molto molto grande cresce in modo esponenziale il secondo motivo riguarda un aspetto che molti di voi scordano sottovalutano ovvero il cosiddetto crawling budget di Google forse molti di voi addirittura non lo sanno ma Google esprime in un valore il budget cioè quante pagine e quanto tempo dedicherà al vostro sito per la sua scansione come si è esattamente determinato questo valore e questa quantità di pagine scansionate non si sa con certezza ma lo stesso Eric Kang qualche anno fa intervistò Matt Katz sull'argomento che gli disse che sicuramente il page rank che fluisce sul nostro sito e le prestazioni del server sul quale risiede sono fattori molto importanti il no index impatta sul crawling budget in quanto come potete bene immaginare lo spreca perché no index non significa che questa pagina non verrà scansionata semplicemente non verrà inserita nell'indice avere tante pagine inutili dalle quali noi ci difendiamo attraverso un'indicazione di non indicizzazione può portare al risultato che queste rubino del budget prezioso che non verrà quindi utilizzato per scansionare pagine più importanti in un'alberatura della struttura del sito molto profonda il crawler potrebbe fermarsi prima di arrivare a pagine importanti a causa di queste pagine non index capite bene che questo può diventare un grande problema soprattutto perché ho visto discutere tanti SEO sul fatto che la freschezza del crawl sia un fattore molto importante di posizionamento e che le pagine più importanti devono venire segnalate appunto come più importanti attraverso un uso oculato dell'internal linking e di altri stratagemmi proprio per far sì che vengano scansionate il più spesso possibile è il caso quindi di lasciare un sacco di pagine inutili che rubano tempo al crawler facendolo spazientire prima che raggiunga le pagine le pagine che davvero ci interessa che prende in considerazione io direi di no Eric vuole rispondere anche a chi avrà volto il proprio pensiero al rel canonical neanche quella è una risposta adeguata a queste pagine inutili prima di tutto perché il rel canonical si deve riferire solo ed esclusivamente a pagine che sono la copia esatta o che sono la sezione esatta della pagina che rendiamo canonica e soprattutto il rel canonical rimane un consiglio a google non un'indicazione e può venire ignorato non è una soluzione adeguata la soluzione che ci propone Eng è quella di tagliare a testa bassa falciare ciò che non è importante ciò che è superfluo e non nasconderlo sotto il tappeto con il no index penso sia un consiglio molto importante per fare ciò basta far rispondere alla pagina un 404 un 410 che significa gone non tornerà più un bel 301 spostata in modo definitivo indicando al crawler che secondo voi sostituirà nella struttura del sito la funzione della pagina che non c'è più ora siete convinti che il no index non sia la soluzione per i problemi del sovraffollamento del vostro sito io a dirla tutta lo ero già da prima perché sono un maniaco della pulizia dei siti web che secondo la mia esperienza per essere efficienti devono essere compatti e sensati belli snelli senza orpelli inutili o pagine di passaggio che spesso servono solo nella nostra mente voi che esperienza avete in merito? avete mai combattuto contro il panda? e a parte il bambù avvelenato avete qualche soluzione migliore? attendo con ansia le vostre esperienze bene questo era l'ultimo approfondimento della settimana come anticipato la volta scorsa da questo appuntamento in coda al video voglio aggiungere una lista degli articoli interessanti che per un motivo o per l'altro non sono riuscito ad approfondire ma che penso dal mio punto di vista che meritino lo stesso una lettura attenta prima di fare ciò solo per questo appuntamento vorrei però chiarire i criteri con i quali uno seleziono gli articoli da includere nella settimana insomma quelli che metto nella mia cartellina dei preferiti man mano e che poi revisiono al momento di registrare il video e due perché alcuni sono approfonditi e altri no perché vi assicuro non è una classifica sulla qualità ma ci sono altri fattori in gioco i miei personali fattori di ranking i criteri di selezione a monte sono abbastanza semplici prima di tutto cerco solo articoli con contenuti unici quelli dove chi scrive l'articolo inserisce un proprio punto di vista personale la propria esperienza studi casistiche ciccia non si ferma solo a snocciolare delle nozioni probabilmente già sentite o lette da un libro o prese da un altro post non si limita a riportare ma ragiona ci fa riflettere altro genere di post molto interessante è quello dove viene esplicato un punto di vista alternativo dove si osa che non vuol dire dire delle cazzate per essere originali ma si argomenta un punto di vista che magari va contro a quelle certezze tanto pericolose nel mondo SEO dove mi piace ricordarlo se arriva lo stesso risultato attraverso strade a volte molto diverse io li propongo a volte anche se non sono completamente d'accordo ma perché mi sembrano argomentati con motivazioni logiche degni di nota nel vero senso della parola un altro tipo di articolo o di contenuto a me molto caro è quello che genera discussione magari può partire anche solo dalla domanda su di un forum o su di un gruppo social intorno a questi piccoli contributi delle volte si crea una conoscenza preziosissima che difficilmente si sarebbe creata nella stesura di un articolo da parte di un singolo questi poi sono quel genere di contenuti che spesso passano inosservati perché magari non abbiamo il tempo o gli strumenti come quelli che ho affinato io nel tempo per fare un listening ad ampio raggio per questo mi piace molto proporli perché sono molto probabilmente quelli che saranno più sfuggiti a chi mi segue ed è un peccato parlando invece della selezione dei contenuti che approfondisco va la questione molto semplice prima di tutto mi piace approfondire argomenti sui quali posso dire personalmente qualcosa e aggiungere carne al fuoco porre domande metterci qualcosina di mio questo perché se no la settimana potrebbe anche risolversi in uno di quei post con i link più interessanti della settimana che ho visto fare da molti e che ho apprezzato ma che ho pensato svolti con un altro medium che è quello del video in un altro modo cercando di aggiungere e di raggiungere e di creare discussioni sono stato molto felice quando alcuni professionisti in gruppi come Fatti di SEO sono intervenuti dicendo la loro sulla questione e sono stato altrettanto contento quando persone meno esperte hanno chiesto lumi approfondimenti mi hanno scritto in privato per chiedermi se ne sapevo qualcosa di più è esattamente il tipo di reazione che cerco di generare mi fa capire che tutte le ore spese a fare questi video perché vi assicuro che non è facile produrli sono serviti a qualcosa un altro elemento molto importante che mi fa decidere di approfondire un contenuto è quando esso contiene roba pratica come dicevo quando parla di esperienze quando parla di case history di test perché ho rilevato che questi sono i contenuti che più mancano nella community SEO forse anche per colpa di un atteggiamento di ritrosia da parte di molti SEO che vogliono tenersi diciamo la ricetta segreta cosa molto sbagliata secondo me e perché penso che molti abbiano paura ad esporsi anche a causa dell'ambiente feroce soprattutto quello italiano di noi SEO dove si fa molta meno fatica a mordere che a discutere in modo civile una cosa che nel mio piccolo spero di cambiare o aiutare a farlo innanzitutto dedicando parte del mio tempo proprio alla diffusione e alla generazione di conoscenza come ad esempio attraverso questi video insomma non di fondo come alcuni mi hanno accusato di fare in base a simpatie preferenze o chissà quale altro metro di giudizio iniquo bensì cercando di approfondire e proporre quello che ritengo più interessante come ho detto nel primo video bene li volete sapere gli articoli extra di questa settimana il primo è di AJ Khan del blog Blind 5 Year Old dal titolo Aggregating Intent aggregare le intenzioni di ricerca spiega il concetto di aggregazione delle intenzioni di ricerca di come Google fa questo nelle knowledge card e come dovremmo farlo noi SEO è molto interessante leggetelo il secondo è un articolo sempre di Mark Traphagen dove riassume quello che ha sentito al SMX West sulle direct answer ultimo post che vi segnalo è di Peter Mayers è stato scritto su Moz e si intitola How we fixed the internet una case study dove lui ci spiega la sua esperienza nell'aggiornamento di un answer box voi lo sapevate che si potesse fare è molto interessante perché ne spiega le meccaniche e vi consiglio di leggerlo bene per questa settimana è tutto se vi è piaciuto il video cliccate sul pollicione in su cosa che mi sono sempre scortato di dire se non siete iscritti al canale e volete avere settimanalmente notizie sulla SEO e presto qualche interessante contenuto originale al 100% iscrivetevi al canale naturalmente aspetto con impazienza i vostri commenti le vostre discussioni e spero come al solito insieme a voi di creare ulteriore conoscenza vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend ciao a tutti